Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale! Allora, oggi facciamo una sfida, un percorso dove sarete divise a coppie, Ginevra con Nelly e Sara con Melissa ma una delle due sarà bendata Ok? Non vedrete il percorso No, oggi si bendano Melissa e Nelly Ok? Non vedrete il percorso, l'altra vi dovrà guidare faremo sia la sfida a tempo che la sfida con i punti quindi ogni squadra partirà da dieci punti e ogni volta che toccherete uno degli attrezzi scenderà di un punto Ok? Vedremo chi alla fine avrà più punti Dovrà arrivare seduta su quella sedia Nel momento in cui la Nelly si siederà il tempo verrà fermato Pronti? 3, 2, 1, via! Un punto perso 2 passi a sinistra di lato ancora un po' parla forte Gini 2 passi avanti vai vai ok allora ti giri un po' a sinistra e ti giri a destra di un quarto a parte nell'in nell'in sinistra Ginevra ma no a destra sinistra vai attenta eh guarda cos'ha a sinistra l'anelli è bloccata vai 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 due passi di lato a sinistra va bene uno e puoi dirgli cosa ha davanti hai male l'asse quindi fai un po' e poi ti dico soffa no girati un altro po' a sinistra guarda 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 ma lei non può capirlo devi guidarla puoi tu devi girare tipo di di 45 gradi brava ok vai sei in mezzo ai materassi occhio a non toccare con le mani se il materasso cade non l'abbiamo toccato brava nell'e c'è la trave tra un bel po' mamma mia povera e quindi un punto in meno l'hai toccata ora devi fare due passi a sinistra no deve passarci sotto un passo a sinistra e devi passare sotto è più difficile di quello che pensavo guarda 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 giri di un po' a sinistra si che fai bassa bassa eh no Kelly girati un altro po' un altro po' a sinistra ancora la minora ancora a sinistra ok ah non l'ha toccato per pochissimo vai 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 ancora direi che si può alzare ora ci sono le stagioni quindi un passo avanti questo è il pezzo più difficile un passo a sinistra un altro passetto piccolo ah devi fare un passo laterale a sinistra no ferma no torna indietro non la toccare devi girarti a sinistra e per un quarto ancora ancora ok fai un passo avanti vai vai ancora ecco ora ti andiamo a destra di un passo avanti ok l'hai toccata o no no ma lo devi dire lei l'hai toccata la sedia Nelly l'hai toccata la sedia ok ci sei passata vicino ma fai due passi avanti vai vai ok ti giri a sinistra ancora no ancora ok vai 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 passi avanti no Nelly giro l'hai toccata la sinistra ok fai un passo di passi avanti lunghi Nelly allora perché faceva lunghi ancora 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 vai vai che sei alla fine Nelly non ferma ora ti devi dire a sinistra aspettava fai un passo ancora ancora ma perché vai a destra vai dritto ora ti devi dire a sinistra così si si e fai un po' aspetta fai un passo a destra ok cammina ti devi dire a sinistra si ora ti giri a destra ti devi dire a sinistra ti devi dire a sinistra fai un passo a destra laterale e ti puoi sedere ok top 5 e 51 direi che basta ok 5 minuti e 51 la Nelly si può togliere la venda com'è com'è stato facile o difficile difficile ok ma io sono dovuta passare un letto si anche la Melissa è pronta Sara pronta dalle indicazioni Melly sai qual è la destra su ok sinistra ok va bene non si sa perché la destra è una gamba e la sinistra è una mano però va bene ok via un passo avanti un altro un altro un po' meno belli è un punto abbiamo toccato lo staff chiudi la gamba ok di lato vai un altro vai Melly vai ok avanti attenta è qua attenta Sara a sinistra a sinistra a sinistra a sinistra gli devi dire sempre dritta vai vai dritta vai dritta ma se la fai girare la fai andare dritta poverina gli fai fare un casino dall'altra parte vai dritta vai dritta vai dritta vai 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 Melly stop stop toccata meno due punti aspetta ma poverino porta la prima lì davanti avanti un po' di lato un po' di lato a destra ancora a destra ancora chinati il ginocchio non ti vede Sara è inutile che glielo fai vedi un po' a destra giù a gattoni di più avanti stai bassa con la testa avanti 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 a gattoni funziona benissimo vieni dove tre punti si che ha toccato la sedia Melly di la verità l'hai toccata si avanti 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 così si vieni di qua che lo vedi dove deve andare perché tu gli stai dando le indicazioni al contrario mi sa destra e sinistra vai avanti un po' di lato sinistra no sinistra sinistra Melly avanti un po' di lato sinistra avanti 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 dai 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 fallo andare avanti giro un po' sinistra avanti avanti girati un po' destra poco avanti avanti occhio giro un po' sinistra non mi ha toccato girati un po' nistra avanti avanti vai 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 veloce 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 attenta 4 avanti avanti stop stop no ferma torna sulla striscia 5 ok vieni un po' a destra destra dei passi indietro siediti ok stop 5 minuti e 37 quindi aspetta però allora di tempo hanno vinto la Sara e Lamelli ma la Sara e Lamelli hanno toccato 5 volte mentre Lamelli ha toccato solo 2 volte quindi non lo so lasciamo il sondaggio qui su per decidere chi ha vinto com'è stato Lamelli? bello ok allora votate chi ha vinto secondo voi e poi a 200 like facciamo il video al contrario quindi la Lamelli guida Ginevra e la Lamelli guida Sara ok ciao a tutti ci rivedremo nel prossimo video yuhuuu yuhuuu